oh 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 my god my life no 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 stop fuck you no mia moto non fare lo ok bla 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 però arriva al punto arriva al dunque non mi sono mai fregato così poco di qualcosa in vita mia di questi ultimi 30 secondi minuto fuck this no skip skip come ski come mi come come vado in cryostasi per tipo tre minuti sto odiando la mia vita please ok miyamoto san please please stiamo davvero facendo questo sto tipo anche un rhythm game di picmine mi va bene miyamoto non hai nipoti a cui dire ste cose non sono tuo figlio ecco ecco sì let's go let's go ok oh boy oh boy oh my god la panchina ok è nuovo è nuovo non ho mai visto una panchina un cronometro big win yes 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 oh niente nient'altro nient'altro oh my god tuttavia oh chi l'è è britani potrete giocare così con la prospettiva di pikmin lo sto attendendo da quando sono nato thank you oh my god e non avevo visto leak a riguardo quindi fanculo se avete visto leak io non li ho visti e sono felice perché i leak fanno schifo bene sono passati 30 minuti oh my god vi odio tutti i chat tutti soprattutto keyblade